Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video Io oggi sono qua perchè vi voglio far vedere un nuovo video news E praticamente in questo video vi dirò che questo best shop ever andrà via Allora intanto entriamo dentro e vi faccio vedere un po' di segreti e quello che dovreste comprare Dovreste comprare un po' tutto Vi consiglierei questo qua il set dei camping kit che costa 200 robux Non penso di... non comprateli Possiamo... ah I marshmallow che ovviamente secondo me si potranno trovare comunque E poi non si possono trovare... cioè non si possono salvare quindi Poi la chitarra 500... non so... il D del gioco Il biscotto goloso Li prendo... E poi secondo me questo qua non si può più trovare Lo s'mores cookie Questo qua... questo lo possiamo salvare quindi lo metto nei preferiti A proposito le stelline... le stelline queste qua Quanti ce l'ho... vabbè questo non comprende il coso però... Così lo saliamo Ok... 206 Mancano 4 stelline e il ginger rocchetto mi regala 200... 1000... un po' costoso questa roba Una torcia... e la prendiamo un'altra... e un'altra... tanto mi sa che ce l'ho abbastanza... vabbè le ho presi 3 giusto 3... la stellina che costa 20 soldini del gioco... e... e... insomma qua... c'è un segreto... qualche qua dentro... Oddio... 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 sono bloccato... oddio ma dove... dove cavolo... e se vabbè... Ah no non è qua mi sa... ma dov'è allora... Ah ecco... Egg Bart... questo è prima del Retired Egg... ecco perché volevano fare il Retired Egg... quindi usciamo... oddio... ok... no sto entrando ancora... Io non voglio uscire... dov'è... ragazzi mi sto bloccando... ok... ma ancora... Oh mio Dio... Oh ok... ce l'ho fatta 3 ore... Ok... usciamo... e non penso che il camping andrà via... Sì... mi sa il camping... vabbè... lo scopriremo nel video... di Adopt Me... quello news... Ho preso un po' di cose... perché così... ehm... magari... i prossimi anni andranno di valore... ma questo qua... penso che andrà via... eh... Cioè questa mi sa... fitta casotto... ma non penso... cioè tipo il marshmallow... le possiamo prendere pure qua... Però non si possono mettere come preferiti... cioè non si possono salvare... guardate... Cioè non sono aperta a quest'ora... poi le docce... quindi volevo fargli sta missione... e vabbè... Eh... andiamo al centro... vorrei scambiare su un polar di ieri... perché ce li ho due... Perché se avete visto il video di lunedì... ho pubblicato un video dove ho ottenuto di nuovo... cioè un altro polar... che sarebbe questo... e Frosty... Io vorrei lo Skeller X... che prima mi stava scammando uno... perché diceva... eh... per il polar beer do dopo un... mega... frost... Sì... Sì... Vabbè... ovviamente a te ti do... magari... cosa ti posso dare... Aggiungi... ma va che devo aggiungere... c'è... boh... c'è... ma aspetta... Che io ti offro qualcosa... Poi non offro... non offro... ma vabbè... Uguale... mi sono già stufato... Allora... Andiamo... oh... vediamo se è aperta... Oh... è aperta una almeno... Ah... ma ancora... è vero... però ancora sta pioggia... Oh... no... tra un giorno... Oggi è martedì... quando sto registrando... quindi andrà via... Penso... giovedì che va via... Poi... tra cinque giorni viene la stagione del... dell'autunno... Tra sette giorni... vabbè... Tra otto giorni... lì ci sarà... L'aggiornamento delle piogge... E tra dieci giorni... vabbè... ovviamente ci sarà questo... Perché... ogni stagione dura trenta sei ore... Cioè... un giorno e mezzo... E... eh... Tra tredici giorni... eh... Viene l'aggiornamento dell'inverno... Io adoro di più quello... delle piogge... sinceramente... E' carinissimo... è divertente... Ci sono... le banane da prendere... Invece l'aggiornamento del deserto è un po' più noioso... Anche quello dell'autunno... quello dell'inverno mi piace... Andiamo... su... Adopt Me... No... uno scambio... Vediamo che cosa offrono... Dov'è... 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 Uno shark... ma te sei fuori... Una snow owl... oddio... la snow owl è difficile... Dov'è... Peace... add... Mi fanno schifo sti bet... E io ho il polar... Lo squalo vabbè... Lo zodiac minion chick... Come zodiac minion chick... Un woodland egg... Eh... what? Beh... No 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 no... Te... Vieni scambiato... te... Vieni scambiato... Perché... Questo costa... Aspetta... Oh... Nooo... Il woodland... Volevo il woodland... Ma che pizze... Basta... Siete noiosi... Diventano noiosi... Oddio... La squid per 5 ride potion... Ma... veramente? Io non ci credo... Andiamo... Sulle news... Adopt... Me... Aspetta... Proviamo adottere... Sta tartaruga... Prima la stavo per ottenere... Solo che si è disconnesso... Cavolo... Stavo per ottenerla... Cioè... Stavo per ottenerla... Lui mi sa che si è sconnesso dal gioco... Perché lo stavo trovando... Ed è andato via... Stavo per ottenere... Cavolo... Stavo per ottenere la... La tartaruga... Sconnesso dal gioco... Cavoli... Vabbè... Lo rivedrò... Lo rivedrò... E ci sarà pure un altro... Dove vi faccio vedere... La copertina di Jesse... E qua c'è... Di nuovo Jesse... Aspetta... Mmm... Estai qui con le notizie settimane... Adopt me... Per me non ti ha dei dettagli... E con le posizioni... Play Adopt me... Su Tito... Instagram... È un tuo età... Gli advices... Questa settimana... In un interno del negozio del campeggio... Sta cambiando... Sta diventando più... Semplice... Mano... Mano... Di vernice fresca... Quindi verrà... Rifatto... Ok... E con il suo interno... Ritualmente rinnovato... Con tutte le versioni... Di suoi articoli... Da campeggio preferiti... Rendendo più bello... Che... Passare la notte... Sotto le stelle... In Adopt me... Adottami... Non lo lasceremo... Solo a questo... Da giovedì... Il negozio del campeggio... Ospiterà... Due... Nuovi... Pet... Il possum... Che sarà... E... Con i soldi del gioco... E... Firefly... Cioè la farfalla di fuoco... Praticamente una falena... Con i robux... Non è robux... È con i robux... Entrambi saranno disponibili... All'interno del negozio del campeggio... E rimanendo dopo il prossimo aggiornamento... Come? Ah si... Se non riesci a prenderli su... Aspetta... In che senso? Aspetta... Dal prossimo... All'interno del negozio del campeggio... E rimarranno dopo... Il prossimo aggiornamento... Beh... Vabbè... Giovedì... Quindi non preoccuparti... Se non riesci a prenderli subito... Rimarranno qui con noi... Ancora per un po'... Quindi fino a giovedì... E alle 17... E abbiamo alcuni bonus... Di questo aggiornamento per te... Lo sono set di mobili riciclati... Per i costruttori... Là fuori... Stiamo cambiando l'esterno del negozio... Della fattoria... In un edificio... Che pensano abbia un aspetto... Ancora migliore... Quindi... Un altro pet? Oppure stanno facendo... La... Cioè... Stanno anche rifacendo... La fattoria? Pensate che abbiamo rispetto... Quindi tieni gli occhi aperti per questo... Domani è fantastico... Vabbè... Ed ecco... Tutte le notizie del nuovo aggiornamento...